Tra Star Trek e il Trono di Spade sono passati 15 anni. Ho avuto tanto tempo per essere pronto per altre cose. Ho fatto altre serie televisive, circa 5 o 6 tra le due. Sono state tutte meravigliose. Forse una o due non mi sono piaciute, ma quasi tutte sono state meravigliose. E il Trono di Spade è appena iniziato. L'anno scorso è stata la prima volta che l'ho fatto. Ci sono solo in qualche episodio. Non sono la star, sono solo uno dei 300 attori nel Trono di Spade. Il mio nome è Doran Martel, fratello di Oberyn, che muore alla fine della quarta stagione. Sono il fratello maggiore e sua moglie è alla disperata ricerca di me per ottenere vendetta. Ed ecco come inizia. Il mio compito principale è far sì che la famiglia resti in piedi e che non venga distrutta. Un altro progetto su cui sto lavorando è uno speciale televisivo di 6 ore, TUT, che parla di Tutankhamon, che uscirà quest'estate, girato alla fine dell'anno scorso. Il prossimo mese girerò un film in India per la prima volta. Sono l'unico che parla inglese. Tutti parlano indiano. È una produzione di Bollywood ed è girato a Mumbai. Spero di riuscire a girare anche un film, perché ho fatto molte serie TV nell'ultimo anno e mezzo e sicuramente ritornerò nel Trono di Spade. Non sono ancora morto. Magari riuscirò a finire quest'anno del Trono di Spade. Chi lo sa, perché un giorno ti svegli e sei morto. Non sai mai fino a quando sopravviverai in questo show. Ho tanto lavoro e sono molto fortunato. Guardate TUT, è molto divertente. C'è una preview su internet, così vi potete fare un'idea dello show.